Ciao a tutti da Rassegna Metropolitana, siamo con Anna Passanisi, attrice teatrale conosciutissima, impegnata anche nel sociale ad Augusta, che oggi la incontriamo in veste di insegnante di un corso di edizione che si terrà proprio alla Shlok. Come funziona un corso di edizione? A che serve Anna? Sì, buonasera. Sì, ho il piacere di presentare e promuovere il corso di edizione che da anni il Centro Shlok accoglie e ospita all'interno del proprio programma. Anche quest'anno contiamo di avere iscritti, adulti di qualunque età. Mi piace definirmi più che insegnante una guida, anche un testimone di un'arte di cui ho fatto nella mia vita il mio mestiere, ho scelto di farne il mio mestiere. e una guida all'interno di un percorso che si mette al servizio di chiunque, non solo di chi vuole calcare le scene. Cioè il corso di edizione. L'edizione è una delle discipline fondamentali, basilari, per chi voglia intraprendere ovviamente la carriera artistica nel teatro, ma in questo caso diventa uno strumento appunto a disposizione di chiunque voglia migliorare le proprie capacità comunicative, le proprie relazioni. Può servire a chi come me fa un'intervista, a me servirebbe tantissimo e sicuramente non mancherò. Serve a chi piace per esempio fare doppiaggio, è importantissimo. Chi vuole fare teatro, chi vuole lavorare, chi vuole anche saper parlare bene. Sì, assolutamente sì. Chi vuole migliorare la comunicazione attraverso l'uso della voce, ma anche attraverso l'uso della propria gestualità, perché non dimentichiamo che noi comunichiamo con la voce, parlando, ma anche e soprattutto con la nostra gestualità, con i nostri movimenti. Credo, scusa Anna, che sia importante anche nelle professioni tipo l'avvocato, il medico, saper parlare bene anche con una dizione perfetta e non solo sapere i vocaboli quali sono. Sì, spesso chi si rivolge ad un corso di dizione si aspetta, e così è, insomma, che si migliori la pronuncia, insomma, delle parole, della lingua italiana, che si cancelli o quantomeno attenui quella cadenza dialettale che ci rappresenta naturalmente, che ci rende orgogliosi, ma io dico sempre, è più bello poter scegliere, conoscere la lingua siciliana, ma poter scegliere di parlare anche la lingua italiana, e superare anche talvolta blocchi emotivi, timidezze. Dunque, io dico, il corso di dizione serve proprio a renderci più disinvolti, più sicuri nel mondo, nelle relazioni con tutti, ecco, quindi chi ne ha voglia e chi ha questa esigenza, vi aspettiamo. Vi aspettiamo allora giorno 30 per la prova del corso di dizione per conoscere Anna Passanisi alle 17, in via di ottobre, 114. 14, grazie, ciao. 15, grazie, ciao.